Distanti ma vicini, progetto di inclusione digitale promosso dal CNA, al via le domande di partecipazione. Nel corso dell'evento che ha concluso la scorsa edizione del progetto Distanti ma Vicini, la promessa era stata quella di ritornare e se possibile ampliare la platea dei beneficiari. Tale obiettivo è stato oggi pienamente raggiunto alla seconda edizione dell'ormai famoso progetto di inclusione digitale destinato ai cittadini della terza età e oggi ai nastri di partenza. Il progetto, fortemente voluto lo scorso anno dal CNA in pensa sensibile Ollus, promosso anche dall'ANSPI, era incentrato su una sessione di laboratori teorici pratici attraverso i quali 50 diversamente giovani ad Augusta e Siracusa hanno potuto incrementare e potenziare le proprie conoscenze dell'utilizzo degli smartphone di nuova generazione, forniti in comodato d'uso gratuito, imparando a comunicare a distanza e in piena sicurezza per evitare in caso di isolamenti forzati, come quelli dovuti alla pandemia di Covid, di restare completamente soli e isolati dal mondo. A seguito del grande successo avuto dall'iniziativa, quest'anno saranno ben 5 i laboratori attivati in tutta la Sicilia, in particolare a Siracusa, Calentini, Francofonte e N. Palermo. Nella sede di Siracusa saranno dunque 25 posti messi a disposizione, destinati a chi non più giovanissimo desidera avvicinarsi alle nuove tecnologie di comunicazione per non essere esclusi da un mondo che cambia.